Apre ufficialmente i battenti il calciomercato invernale per i campionati italiani, al servizio delle squadre che hanno bisogno di qualche elemento per limare le proprie lacune. Non si farà trovare impreparato Pietro Lomonaco in quella che è la campagna rafforzamenti che gli ha regalato tra le soddisfazioni più grosse in passato, da Maxi Lopez a Bergessio, passando per Lodi e Silvestre. Serve sempre più, almeno una punta al Catania, anche perché Calil sembra volare in direzione Padova, così come Paolucci, e conteso da San Benedettese e Fidelissandria. Uno dei nomi più gettonati per poter ricoprire il ruolo di centravanti in casa Catania è Caio Decenco, brasiliano in forza al Trapani. Anche il Padova su di lui, qualora non dovesse arrivare Calil e Veneti. Se da un lato, dunque, Pozzebon si dichiara disposto a valutare offerte concrete, dall'altra parte l'unica certezza che viaggia sui binari di Messina a Catania riguarda Piscitella. L'esterno di proprietà della Roma tornerà nel giallorosso della capitale già adesso, per firmare un prestito semestrale con i giallorossi peloritani. Dunque, una scelta che va letta anche come una conferma importante per Andrea Di Grazia, dopo i dissidi e le voci di mercato, che l'hanno virtualmente allontanato da Catania, ma che oggi lo vedono fermamente titolare nello scacchiere di Rigoli. L'attaccante catanese resterà, così come lo farà Pisseri, Ambito, addirittura in Serie A da Atalanta e Chievo su tutte. Ultimo capitolo dedicato ai ritorni, Marchese e Lodi ancora non hanno firmato. Se per il regista ex Genoa la situazione non è semplice, anche perché c'è un'offerta concreta da parte del Bari che Lodi starebbe valutando, per Marchese la speranza non può morire dopo mesi di allenamenti a Torre del Grifo ed è un sogno chiamato rientro in quella maglia che tanto ha dato alla sua carriera.